eccoci tornati, c'è stato un attimo di burrasca, di uragano, sembrato di osservire giù l'ira di dio invece un altro segnale stupido vedrai se non ci salutiamo subito andiamo tutti a casa vediamo se è uscito si dov'è? cos'è? guarda che roba un tero questa qua gliel'ho data io sta palata qui mi sa di si vediamo se insomma l'adrezzarlo ha qualche scritta qua no qua neanche oh dai ok era un segnale stupido prima ho trovato un centesimino di vittorio microscopico secondo me questo cappetto qua c'è qualcosa più interessante bisogna avere un po' più di tempo perché perché segnali ce n'è parecchi c'è un po' di mobilizia ok 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 qua 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 dovrebbe essere qua 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 un po No, non c'è altro è sciotto